L'unica differenza Mi chiamo Rizvan Khan, non Khan, Khan. Forse vi sembrerò un po' strano, ma non significa che sia stupido. Anzi, sono molto intelligente, molto intelligente, intelligente. Nessuno è riuscito a spiegare perché fossi così, ma a te non è mai importato. Ho mantenuto la promessa che avevo fatto a mia madre. Mi sono costruito una vita felice. Che cosa? Sapevo che l'umanità intera avrebbe dovuto pagare il prezzo di tutte quelle vittime innocenti. Uccise l'11 settembre. Sparisci, Khan! Va via, va via! La prego, mi segua. E va a Washington per quale motivo? Perché devo dire una cosa, dire una cosa, dire una cosa al presidente. Cara Mandira, quando me ne sono andato via ho sentito uno strano dolore. Io so che non posso tornare finché non avrò incontrato il presidente. Ti giuro che farò il possibile per riuscire a dirglielo. Così, finalmente, tu mi amerai di nuovo. Signor Presidente! Il mio nome è Khan e non sono un terrorista.